Allora Roby sei pronto? Sì sono pronto, sono pronto. Ieri sei riposato? Sì sì. A uno. Jump! Ok andate abbastanza bene dai. Allora ragazzi, Merce è arrivata pochissimo, ieri, ne arriverà l'altra fine settimana, ricordatevi che questo fine settimana c'è il Record Store Day, vi aspettiamo anche che abbiamo una sorpresa per voi, soprattutto per coloro che hanno le compilation, quelle storiche. Allora, innanzitutto vi facciamo vedere che è rientrato sempre l'ultimo Gio Bonamassa, che a memoria d'uomo credo che sia forse il disco più venduto suo, no? Eh sì. Che è proprio di sì, sì. Bellissimo. Becco e l'uola con Bettar. Eh sì, eh sì. Nuovo live de Rolly Stone, live da New York City che è uscito anche su vinile, questo dovrebbe essere credo l'edizione limitata a rimasterizzata, sì questa è la limited edition, questa è la limited edition, perfetto. Poi, abbiamo fatto il video con Febè di Lamu e chi è successo, tutti a chi è della Lamu. Questi li abbiamo tutti venduti oggi, sono della serie dei Blu-ray della ragazza dello spazio, che faremo sempre più di questi video, perché non vendiamo soltanto vinile in cinema, vendiamo anche i DVD a Blu-ray. È arrivato il nuovo 45G di Richard Ashcroft con dentro Lion Gallagher, pure questa è la lezione limitata. Arrivati CD e vinile del nuovo album di Michael Monroe, di cui faremo la recensione più tardi, non diciamo niente, dovete vedere il video, dovete vedere il video. Poi, è arrivato il doppio dal vivo di Asia in Asia, registrato anche da Budogan, dei grandi Asia con la formazione titolare, vedi? E credo che questa sia la data dove, al posto di Joe Whetton, c'è il grande Greg Lake. Eccolo qua. Uno di questo faremo la recensione forse oggi, se ce la facciamo. Rientri, vabbè, questo non diciamo niente, questo pure, questo è anche di conoscere tutti quanti, no? Vabbè, classiconi. È rientrato anche Back to Black di Amy Winehouse e una segnalazione, il BBC, il live è uscito nuovo, no il BBC è uscito nuovo, a Grasbury è fuori catalogo, per cui, ve lo rivediamo per l'ennesima volta, non aspettate l'ultimo momento per chiederci i vinili, prenotateli subito su www.vinistrack.com perché in questo momento storico è tutto limited edition, ok? Non aspettate, fidatevi, e fidatevi un po', ok? Poi, è arrivato il tributo a Ennio Morricone dei Calibro 35, grandissimo gruppo di jazz rock italiano. E infine, è arrivato il nuovo album degli Osanna, fantastici, guardate qua, ancora, ancora tanta voglia di combattere, come il My Combo Raw. Oggi ti pubblicheremo tutti quanti su www.vinistrack.com, a dopo con le recensioni. Ciao. Ciao.